Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi parliamo delle ultime letture, le letture che ho fatto durante i mesi estivi, quindi ritorniamo a parlare di libri. Prima di farlo però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Quest'estate ho letto quattro libri e sono molto felice di parlarvi di ognuno di loro perché ci sono delle cose che mi fa piacere discutere con voi e poi noi potremo parlare insieme anche nei commenti. Il primo libro del quale vi parlo è La vita segreta di Maud Dixon di Alexandra Andrews. Ho acquistato questo libro un po' di tempo fa, in realtà all'inizio dell'estate credo, proprio perché mi attirava la copertina e devo dire che sono stata affortunata perché alla fine anche il contenuto era altrettanto bello e interessante. La storia è quella di Florence e di appunto Maud Dixon. Maud è una scrittrice ma questo non è il suo vero nome, è uno pseudonimo che questa donna utilizza per pubblicare i suoi libri o meglio il suo libro più famoso, quello che l'ha resa famosa appunto a livello mondiale ma nessuno sa chi sia in realtà, quindi tutti si domandano chi si cela dietro questo nome fittizio perché è una donna insomma dall'incredibile bravura dato che ha scritto un libro amatissimo dal grande pubblico. Abbiamo poi Florence che invece lavora per un'agenzia se non erro letteraria, quindi comunque sempre a contatto con i libri e La vita vuole che alla fine lei si ritrovi ad essere l'assistente di Maud Dixon. Ovviamente lei conoscerà quindi questa donna, il suo vero nome e inizierà ad assisterla nella sua vita quotidiana e nel suo lavoro di scrittrice. Questo le permetterà di conoscerla, di avere la risposta a tante domande che si faceva su questa autrice ma soprattutto si renderà conto che questa donna ha anche tanti segreti. Le due donne insieme quindi l'autrice che si cela dietro Maud Dixon e Florence andranno in Marocco perché la scrittrice deve trovare l'ispirazione per una parte del suo nuovo romanzo che si ambienta appunto in Marocco. Qui un giorno Florence si sveglia in una stanza di ospedale, ha avuto un incidente, tutti la chiamano Maud credendo che appunto lei sia Maud Dixon e la sua capa diciamo, la scrittrice non c'è più. Quindi forse è arrivato il suo turno di essere Maud Dixon? Vi faccio questa domanda perché la troverete anche all'interno della trama quindi in realtà non vi ho svelato niente ma vi garantisco che ci sarebbe molto molto di più da dire. È un, io lo definirei quasi un thriller nel senso che è un romanzo di quelli che inizia piano piano ma nel momento in cui l'azione entra in gioco ci troviamo ad andare avanti a una velocità raddoppiata perché dobbiamo assolutamente sapere come va a finire. Quindi da metà in poi preparatevi a divorare questo libro. Questo perché? Perché l'autrice Maud Dixon, quindi quella del libro ecco, è effettivamente un personaggio molto particolare, un personaggio che ha delle caratteristiche evidenti e delle caratteristiche invece un po' più nascoste che verranno svelate andando avanti nella lettura e che la rendono ancora più intrigante. Ma parliamo invece di Florence che è l'effettiva protagonista visto che tutto è raccontato dal punto di vista di questa ragazza. Beh, la particolarità di Florence è il fatto che è una protagonista assolutamente fuori dalle righe perché è una donna, una giovane donna completamente concentrata su se stessa. Forse è uno dei personaggi più egoisti che io abbia trovato nei libri che ho letto. Infatti noi impariamo a conoscerla soprattutto dalle prime vicende raccontate nel libro che poi la portano a lavorare per Maud Dixon. Florence è una ragazza che è assolutamente in grado di creare delle amicizie anche piuttosto profonde con colleghi e amici ma poi nel momento in cui la vita le dà una spinta e lei vede la possibilità di avvicinarsi un po' a quello che è il suo sogno o magari diventare un po' più importante di quello che è, ecco che è pronta a lasciarsi alle spalle amici e parenti senza mai guardarsi indietro. Lei vive una vita in cui crede sempre di essere sottovalutata, lei è una donna perennemente scontenta e anzi invidiosa degli altri e piuttosto incattivita perché non sopporta vedere gli altri realizzare i propri sogni e lei invece sentirsi sempre un po' nell'ombra. Anche se lei forse in quell'ombra ci sta bene perché questo le permette di fare delle cose non proprio lecite senza essere particolarmente notata. Insomma io spero con queste parole di avervi un po' incuriositi su questo personaggio così strampalato che però appunto si ritrova a dover lavorare per un'autrice che forse è altrettanto strampalata ma potrebbe esserlo anche di più. Un libro con una bellissima storia, una bellissima avventura, una lettura che ho fatto con grande piacere e che vi consiglio di recuperare perché secondo me merita. Il secondo libro che ho letto quest'estate è stato Per ricominciare guarda tra le pagine di un libro di Ali Berg e Michelle Kalus. Allora questo libro è la perfetta lettura estiva, la perfetta lettura d'ombrellone anche se io non l'ho trovata e non l'ho trovata eccezionale però diciamo che per una lettura leggera ecco ci sta. La protagonista è Bea, una ragazza che a causa di un errore e non ve lo dico perché è anche piuttosto divertente ed è proprio all'inizio, a causa di questo errore lei si ritrova improvvisamente sola. La sua migliore amica non le vuole più rivolgere la parola e lei decide di trasferirsi in un'altra città per ricominciare diciamo una nuova vita. Viene quindi assunta in un'azienda e lei in realtà si sente molto sola, le manca la sua amica, le manca la sua famiglia, in più lei ha una sorella influencer quindi una sorella molto estroversa, capace di fare amicizie immediatamente mentre lei si sente sempre un po' timida e in difficoltà. Ha un amico che è il barista del caffè vicino a casa sua o meglio vicino a dove lavora se non erro, dove si reca tutti i giorni per trovare un po' di consolazione, un po' di chiacchiere in amicizia e il buon caffè che prepara questo ragazzo. Beh all'improvviso cosa succede? Succede che lei essendo un'appassionata lettrice va in un negozio di libri usati, compra un libro e all'interno di questo libro scopre delle frasi meravigliose, delle massime che sembrano proprio parlarle. Allora decide di cominciare a indagare per capire chi era il precedente proprietario di questo libro. Questo quindi la porterà diciamo ad aprire un profilo su Instagram per cercare il proprietario del libro e la porta anche ad organizzare degli eventi letterari che potrebbero metterla in contatto proprio con chi aveva quel libro prima di lei. All'improvviso arriva un ragazzo, un ragazzo bellissimo, stupendo, perfetto, dai il classico ragazzo da romanzo rosa che si scopre essere proprio quella persona che lei stava cercando. Quindi i due cominciano a parlare e inizia tra di loro una relazione. Le cose non possono andare così lisce per tutto il tempo quindi io non vi dico cosa succede dopo, sappiate solo che c'è un bel colpo di scena che rimescola le carte e che insomma la porteranno a dover un po' rivalutare tutti i rapporti che ha diciamo creato in questa nuova città dove si è trasferita. Perché vi dico che il libro non mi è particolarmente piaciuto? In realtà mi è piaciuto quindi io non mi sentirei di non consigliarvelo soprattutto se vi piace il genere. Ho trovato la storia forse un po' banale ma proprio perché è quel genere di storia che si richiede ad un romanzo di questo tipo. Quindi nella mia diciamo personale opinione il fatto che io già all'inizio mi fossi resa conto di come sarebbe andata a finire ecco è un è un difetto secondo me perché io preferisco essere stupita dalle storie. Questo non toglie insomma il fatto che io l'abbia letto tutto, l'ho letto con piacere. È stata una lettura che ho fatto per il club del libro proprio per il tema letture da ombrellone e quindi perché no siete amanti dei libri, siete amanti delle delle storie romantiche, siete amanti dei personaggi un po' particolari ma che ci fanno provare simpatia per loro. Credo che questo libro faccia il caso vostro. Il terzo libro che ho letto quest'estate è stato I quaderni botanici di Madame Lucie. Non ce l'ho qui con me perché l'ho prestato alla mia mamma perché lo leggesse anche lei. Questo libro mi è stato caldamente consigliato non solo dalla mia libraia di fiducia ma anche da tutti voi. Quando l'ho mostrato su Instagram in tanti mi avete scritto di averlo divorato. Capisco perché, perché la storia effettivamente è una di quelle storie che si fa divorare. Il libro inizia con un evento tragico, la protagonista del libro subisce un lutto, un lutto enorme, uno forse dei peggiori che si possano vivere in una vita e questo la porta a voler abbandonare tutto quello che faceva parte della sua vecchia vita. Quindi decide di lasciare la sua casa e prendere in affitto una casa un po' sperduta nella campagna vicino ad un boschetto, lasciare temporaneamente il lavoro e rinchiudersi in questa piccola casetta da sola e al buio per vivere in pace questo lutto e questo dolore. La casa apparteneva ad una signora anziana che adesso chiaramente non c'è più, la cui figlia ha deciso di appunto dare in affitto la vecchia casetta. Quindi la nuova proprietaria entra in contatto anche con la figlia della signora e viene a scoprire che nella casa sono rimasti degli scatoloni con le vecchie cose appartenute alla signora che viveva lì prima. Tra questi ci sono appunto dei quaderni botanici, quelli che vengono chiamati quaderni botanici che poi in realtà sono delle agende dove la signora aveva nel tempo appuntato varie cose, non solo appuntamenti personali ma anche ricette e soprattutto indicazioni su come prendersi cura dell'orto e delle piante fuori casa. Ecco quindi che la nostra protagonista una volta vissuta una prima parte di lutto estremo, ecco che l'ha vista proprio isolarsi completamente, inizia piano piano a leggere queste agende e ad essere incuriosita da quello che viene suggerito da questa madame Lucie. Ovviamente la storia non finisce qui, ci sono tanti altri personaggi soprattutto quelli appartenenti alla sua vecchia vita ma che continuano a voler avere dei rapporti con lei perché ritengono che per quanto sia grande il lutto che c'è stato le altre persone sono in vita e devono trovare la forza di andare avanti e di continuare appunto a vivere. Inoltre c'è una parte molto interessante su come la nostra protagonista decida di onorare la memoria delle persone che ha perso in una maniera molto personale, quindi non necessariamente legata ad una religione ma in una maniera che lei sente più vicina alla sua natura, più vicina al suo cuore. Allora il libro è bello effettivamente come mi avevate scritto anche voi, anche la mia mamma che l'ha praticamente finito mi continua a dire che il libro le sta piacendo molto, è bello vedere come la protagonista riesca a guarire attraverso le cose semplici come può essere la natura e questo è un grande insegnamento che io stessa ho imparato sulla mia pelle. Secondo me l'unica pecca di questo libro è che l'ho trovato un po' superficiale, cioè si affronta una rinascita in una maniera che secondo me io la definisco piaciona, nel senso che è una maniera che per forza piace alle persone. Non lo so perché ho avuto questa sensazione che non fosse abbastanza profonda, che questo cambiamento, che questa rinascita non fosse abbastanza profonda e che forse fosse fatta in maniera un po' superficiale perché tanto basta mettere un po' di natura e un po' di riti, non so, legati alle stagioni, alla luna e al vento che soffia e le persone sono contente. È difficile da spiegare perché mi rendo conto che in realtà la storia raccontata è una storia di rinascita e fa stare sicuramente bene. Sarà perché io vengo dalla lettura di Valérie Perrin e quindi lei ha effettivamente un modo molto diverso di descrivere la natura e il rapporto con questa e quindi probabilmente facendo il paragone io mi sono ritrovata a pensare che l'abbia fatto in maniera un pochino più superficiale sapendo che tanto questo argomento adesso piace e il lettore avrebbe amato una cosa del genere. In più non apprezzo moltissimo le storie tutte in salita, quindi protagonista che affronta una difficoltà e soluzione della difficoltà. Io preferisco quando ci sono un po' di alti e bassi, anche andando verso un lieto fine, ci mancherebbe, io adoro i lieto fine, però qualche difficoltà perché la vita è anche questo e perché secondo me è anche più bello, è una storia più bella da leggere, ecco, se ci sono un po' di alti e bassi. Beh, insomma, io spero di essermi spiegata al meglio. Se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate e se riuscite in parte a comprendere quello che ho detto su questo libro. L'ultimo libro letto quest'estate è stato 3 di Valérie Perrin, quindi l'ultimo libro uscito di questa autrice, me lo sono lasciato per ultimo perché è il libro più bello che ho letto quest'estate, chiaramente. Un bel malloppone, però l'ho divorato, l'ho veramente divorato. 3, perché si chiama 3? Perché 3 sono i protagonisti di questa storia. Adrienne, Etienne e Nina, tre amici inseparabili che si sono incontrati alle scuole elementari e che hanno, si sono uniti come se fosse per loro naturale stare insieme e hanno vissuto un'infanzia e un'adolescenza sempre insieme sognando dopo gli studi di potersi trasferire a Parigi per inseguire i loro sogni. Però il racconto non è soltanto la storia di questi tre ragazzi e quindi ambientata nel passato, ma siamo anche ai giorni nostri. 2017 viene ritrovata un'auto all'interno di un lago, un'auto che all'interno aveva delle ossa, quindi un cadavere. Chi è che indaga? Oltre alla polizia, chiaramente, c'è una giornalista, Virginie, che sta indagando su chi fosse appartenuta a quest'auto, da quanti anni era lì e di chi sono le ossa trovate all'interno. Virginie è anche la persona che ci racconta la storia di questi tre amici, ricorda la loro infanzia, ricorda le loro avventure, ricorda le loro vicende familiari e quindi noi viviamo tutta la storia alternandoci tra passato e presente, quindi vediamo i tre protagonisti al giorno d'oggi come adulti, come sono diventati e invece come è nata la loro storia e come è andata avanti la loro vita anche nel passato. Non c'è molto altro da dire sulla trama perché questo è un libro che va letto, perché se mi mettessi qui a dirvi qualcosa in più probabilmente racconterei tutto, perché è meraviglioso parlare di questo libro. È questo il bello delle storie di questa autrice, il fatto che crea qualcosa di talmente dinamico, talmente complesso, talmente dettagliato che una volta che incontri una persona che ha letto la stessa storia, non puoi far altro che stare un'ora a parlare di questo e di tutto quello che succede all'interno del libro. La storia dei tre personaggi è interessantissima perché vivono delle situazioni familiari molto diverse ma anche molto intense, eppure così naturali, così vere. È questa la bellezza, il fatto che Valérie Perrenne riesce a toccare dei tasti della nostra vita che probabilmente anche alcuni di noi hanno vissuto in maniera mai banale e allo stesso tempo riesce a parlare di cose che noi non abbiamo vissuto facendoci provare esattamente quello che proveremmo se lo stessimo vivendo in quel momento. Quindi un'autrice secondo me unica con una capacità di raccontare ineguagliabile. Io pagherei per saper scrivere come lei. Inoltre è capacissima di tenerci incollati alle pagine perché nonostante racconti una storia che va avanti per tanti anni abbiamo voglia ogni capitolo di leggere quello successivo. Per esempio Virginie chi è questa persona che racconta la storia che conosce così bene la vita dei tre ragazzi e tutto quello che gli è successo? Beh noi praticamente non lo sappiamo per più della metà del libro. Oltre ad esserci questa storia un po' questo mistero della macchina ritrovata all'interno del lago. Eppure questi due misteri tra virgolette che sono quelli che ci portano sicuramente a voler arrivare presto al finale non sono gli eventi cardine. Quello che è il fulcro della storia è la vita di queste tre persone, di come sono cambiate perché anche questo non è che una caratteristica di un ragazzo lo determina anche come adulto. no perché crescendo si cambia e questa è la realtà poi delle cose e quindi riuscire a cogliere una cosa del genere cioè il fatto che da bambini si può essere in un modo e la vita le esperienze di vita ci possono cambiare ci possono far diventare delle persone diverse è la verità ed è bello che un autrice lo riesca a cogliere e descrivere nei suoi libri. Insomma io non so veramente potrei parlarne per ore perché questo è stato veramente un libro coinvolgente, emozionante, mi ha fatto piangere, ci sono stati due punti del libro in cui ho veramente avuto le lacrime agli occhi e ovviamente è molto più facile piangere con un film che con un libro quindi pensate all'intensità di quello che stava raccontando e sono molto felice perché questo è il terzo libro che leggo dell'autrice e si ha sempre paura di aver rosannato qualcuno che magari ha scritto una grande opera due grandi opere però poi insomma dopo è difficile mantenere il livello invece qui secondo me assolutamente l'ha mantenuto. Ormai questa autrice voi la conoscete perché ve ne ho parlato tantissimo anche voi mi avevate scritto su instagram che era uscito questo libro perché sapete quanto io la ami e quindi non posso fare altro che consigliarvi a mia volta la lettura di questo libro se ancora non l'avete fatto. Bene ragazzi il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto ma soprattutto sono felicissima di essere tornata a parlare di libri quindi mi sono un po' lasciata andare o chiacchierato adesso tocca a voi parlare quindi fatemi sapere nei commenti cosa avete letto quest'estate e cosa pensate delle letture che ho fatto io e niente noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao 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 ciao